se un giorno ti lasciassi mi cercheresti come ha fatto mardar certo mi cercheresti per sempre sì stai mentendo lei mi raccontò di un giovane corriere che passò la vita cercando la ragazza amata e persa pensava che tutti dovessero avere una storia d'amore così credo di averla vista allora dimmelo quanti soldi ti darà 45.000 valgo così poco per te torno indietro tornerò come sirena e un giorno noi due ci rincontreremo che diavolo sei mardar non ti ricordi di me no mi dispiace grazie grazie grazie